Ok ragazzi, mentre l'FBI scopre che negli Stati Uniti e in Europa i russi pagano milionate di dollari per avere sostanzialmente della propaganda filoputiniana, in Italia Omega Click passa dal complottismo spinto alla geopolitica. Ebbene, secondo voi, con un cambio di questo tipo, ed un video che si intitola Ecco perché Putin è un genio, Secondo voi, che cosa potrà mai andare storto? Vi rubo solo qualche istante per una piccola comunicazione di servizio in relazione all'indagine su Tenet. Sì, l'indagine dell'FBI che ha scoperto sostanzialmente due agenti russi intenti a spendere 50 milioni di dollari per finanziare la propaganda russa negli Stati Uniti e in Europa e soprattutto in Italia. Ebbene, a un certo punto del video ho fatto confusione affermando che i russi sono disposti a pagare fino a 2,5 dollari per ogni singola visualizzazione. Ebbene, questo non è un semplice errore di calcolo, ma effettivamente dipende dalle condizioni che ti offrono. Se ti offrono le condizioni base, te ne esci con 25 centesimi di dollaro a visualizzazione, che è comunque un'enormità per i parametri di YouTube e dei social. Se invece sai trattare come Team Poll, ti porti a casa circa un dollaro a visualizzazione. E questo avviene semplicemente perché quando i russi o meglio i loro agenti si sono accordati con Team Poll hanno concordato il numero di video da pubblicare che tra l'altro nel suo caso erano 4 a settimana, non 4 al mese, quindi qualcuno in più. A fronte di un compenso di 400.000 dollari al mese. A fronte di un numero di visualizzazioni che non è proprio elevatissimo. Diciamocelo, prima di questo scandalo il nostro canale era posizionato meglio. Vi dico solo questo. Evidentemente, ragazzi, trattare con i russi conviene. Ma questi aspetti veniali non interessano certamente ad Omega Click, il quale ribadisce di essere indipendente da qualsiasi multinazionale, immagino anche da qualunque governo, e di essere interessato soltanto a diffondere la verità. Ovvero teorie complottiste, storie sugli UFO e da un paio di video anche racconti filoputinani. Nel primo di questi video arriva alla conclusione che Vladimir Vladimirovich Putin, il presidente di tutte le federazioni russe, passate, presenti ed eventualmente anche future, sia un genio. Un vero e proprio genio. Anzi, testualmente dice che è il più grande politico e statista del pianeta. E ragazzi, dobbiamo avere la mente aperta perché se no siamo vittimi della propaganda occidentale. Sì, perché secondo Omega Click esiste anche la propaganda occidentale, perfettamente speculare a quella russa. Ecco, ecco, in realtà un paio di differenze ci sarebbero. In primo luogo, nessun governo occidentale ti mette in tasca 400.000 euro solo ed esclusivamente per pubblicare 4 video a settimana. Anzi, per quanto ne so, purtroppo nessun governo occidentale ti mette in tasca un accidente per pubblicare dei video. E tantomeno vieni pagato da società di copertura o di comodo che hanno sede in Arabia o in Turchia e che fanno finta di aver acquistato da te 400.000 dollari di telefonini. Anzi, scusate, 322.000 dollari di telefonini. Ma soprattutto in Occidente sei libero di tirare a campare facendo il copia e incolla delle veline o dei lanci delle notizie del governo. Ma sei anche libero di fare giornalismo investigativo e critica. E in Russia, se non ti limiti al lancio delle veline del governo, finisce che vieni lanciato tu dalla finestra e tutto il tuo media crolla. Ok? Quindi direi che in Occidente non c'è propaganda. Mentre invece in Russia c'è. Ed è una propaganda chiaramente dittatoriale. Quindi, premesso il fatto che non siamo tutti uguali e quindi non siamo tutti criminali oppure nessuno lo è per parafrasare il motto del ragazzino degli incredibili passiamo ad esaminare esattamente i motivi per cui, secondo Omega Click, Putin sarebbe un genio. Secondo Omega Click, Putin è un genio perché è tosto. Ha preso il potere in anni in cui gli oligarchi illegali, così li definisce Omega, si combattevano delle vere e proprie guerre per il dominio della Russia e Zio Vlad è riuscito ad affermare il dominio dello Stato su questi oligarchi illegali. Ora, sinceramente, non ho capito perché Omega chiami gli oligarchi della prima ora, quelli che hanno fatto i soldi con Helsin e probabilmente hanno aiutato anche Helsin a crearsi il suo fondo pensione. Non capisco perché li chiami illegali. Sono semplicemente degli oligarchi che hanno costruito la loro fortuna, effettivamente, come dice Omega, comprando a poco le industrie e poi sfruttandole. Le regole glielo permettevano. Quello che ha fatto Zio Vlad è stato semplicemente costringere queste persone a collaborare con lui. Alcune hanno deciso di collaborare spontaneamente, altre volevano mantenere le distanze, utilizzando dei metodi decisamente discutibili. Ora, dire che Zio Vlad è un genio per questo equivale a dire che il bulletto della scuola che ti storce le merendine è un genio. Ecco, abbiamo due concetti di genialità diversi. Putin sarebbe stato un genio se fosse riuscito a trovare un compromesso politico, se fosse riuscito a dare degli incentivi affinché questi oligarchi creassero lavoro e riuscissero a creare anche una ricchezza distribuita. Ma andare e prendere la gente per sbatterla in galera e privarla di tutti i suoi asset può essere definito in molti modi, ma non esattamente geniale. Poi, magari, anzi sicuramente, è un sistema efficace di risolvere dei problemi, ma certamente non è geniale. Si fa semplicemente quello che hanno fatto tutti i dittatori fin dall'alba dei tempi. Togliere il potere e la ricchezza a chi non ti è fedele per darlo invece ai tuoi tirap, ai tuoi collab, ai tuoi collaboratori ed amici più fedeli. E detto fra di noi, per chiamare questi collaboratori e amici più fedeli è stato anche coniato un nuovo termine, silovichi. Sono praticamente gli oligarchi creati direttamente dallo Stato e da Zio Vlad, scelti fra persone di sua fiducia, che non necessariamente sono dei mostri di competenza o dei geni. Prendiamo, per esempio, un suo compagno di judo. È diventato un oligarca. Un suo autista è diventato un oligarca. Una delle sue guardie del corpo è diventata un oligarca. L'altra, invece, è diventata letteralmente il responsabile dell'FSB. Il suo merito maggiore è stato quello di neutralizzare un orso, sparando, se non erro, alle zampe, che stava provando a entrare nella veranda della dacia di Zio Vlad. Intendo dire, un vero genio di solito si circonda anche di persone all'altezza, mentre Zio Vlad si circonda di yes-men, che dipendono da lui e hanno pochissimo spirito di iniziativa. Nel breve periodo la cosa funziona benissimo, nel medio periodo funzionicchia, nel lungo ti ritrovi ad affrontare una guerra di tre anni in Ucraina perché nessuno ti ha detto che è un esercito di Melba. Questa è la situazione. Poi, Omega Click fa del benaltrismo quando dice che Zio Vlad sarà anche un tiranno, però non è che Zelensky scherza, perché in Ucraina non esistono partiti d'opposizione. Non è così. In realtà i partiti d'opposizione esistono. Salve errore di memoria da parte mia, sono cinque. Prima della guerra, effettivamente erano undici, ma sei sono stati sciolti perché erano finanziati direttamente dai russi. Quindi, in democrazia, non puoi finanziare il tuo partito con i soldi degli stranieri e certamente in tempo di guerra non puoi continuare a fare attività politica a favore di stranieri con soldi degli stranieri. Se fosse capitata la stessa identica cosa in Italia, avremmo preso gli stessi identici provvedimenti e verosimilmente avremmo anche arrestato e processato qualcuno per tradimento e intelligenze con il nemico. Perché questo è, in tempo di guerra, prendere soldi dal nemico per fare gli interessi del nemico. Poi Omega definisce Zio Vlad il più grande statista politico ed economico del pianeta. Ragazzi, questa è davvero grossa. Omega giustifica la sua posizione dicendo che, prima di tutto, Zio Vlad ha eliminato gli oligarchi brutti e cattivi. La realtà è leggermente diversa perché alcuni oligarchi si sono schierati fin dall'inizio con Zio Vlad e gli altri hanno capito che dovevano necessariamente affiancarlo perché chi ha deciso di opporsi è finito male. Fin qui non c'è da essere un genio, basta essere un pochino gangster e un pochino dittatori. Ecco, è molto semplice riuscire a fare in modo che gli altri facciano quello che vuoi tu quando l'alternativa è vedere crescere le margheritine dalla parte sbagliata. Omega dice che Zio Vlad ha riformato l'esercito rendendolo potentimissimissimissimo anche se in realtà poi questo esercito potenterrimo in tre anni è riuscito ad avanzare di circa 30 chilometri in Ucraina, intendo dire, in Ucraina contro gli ucraini che erano virtualmente disarmati, non contro gli Stati Uniti d'America, i cinesi, oppure l'esercito della NATO al completo. Zio Vlad, il genio di Zio Vlad, aveva preventivato un'operazione di tre giorni, sei giorni al massimo, di giorni ne sono passati novecento, si è fatto invadere la regione del Kursk, il suo esercito ha spostato il fronte rispetto all'attacco proditorio e vigliacco del 2014 di 30 chilometri in due anni e qualche mese, tanti mesi. Se ricordo a memoria le statistiche, 60 aeroplani da guerra sono precipitati per problemi di manutenzione. Dei cento elicotteri K-52, più della metà non sono più operativi, in parte perché abbattuti, in parte perché schiantati, in parte perché non sono mai stati riparati. Insomma, l'esercito russo di problemi ne ha i tanti. Non è che comprare cose, o meglio, spendere soldi per comprare le cose ti renda un genio. Non è che se per ipotesi domani vai ad acquistarti 10 Ferrari, ammesso che ovviamente tu rieschi ad avere delle Ferrari e non stai acquistando dei cloni cinesi, diventi un pilota professionista. non è così che funziona il mondo. Poi, Omega Click dice che Zio Vlad è un genio perché ha fatto boomare l'economia come se non ci fosse un domani. La realtà è leggermente diversa. Effettivamente, la Russia ha avuto una forte ripresa economica più o meno dal 99 al 2008. Ci sta. Ma il merito non è solo di Zio Vlad. Molto banalmente, l'economia si è strutturata per esportare materie prime. Il grande merito di Zio Vlad è stato quello di organizzare in parte questa esportazione, ma non ha mai dato seriamente impulso all'industria russa. Zio Vlad ha sempre sfruttato la Russia, o perlomeno lo Stato russo, ha sempre considerato la grande madrepatria al pari di una stazione di servizio. L'unico servizio che fornisce in una stazione è benzina e gasolio. Similmente, la Russia principalmente fornisce all'estero petrolio e gas. Il 70% della sua economia dipende da questo, dall'esportazione di petrolio e gas. Ora, non bisogna essere dei geni per esportare petrolio e gas. Saresti un genio se riuscissi a trasformare una nazione povera, potenzialmente piccola e accerchiata come Taiwan, in una potenza economica, creando in questo caso semiconduttori. Quello è essere geniali. Ma se tu hai a disposizione la Russia, la più grande nazione del pianeta, e tutto quello che riesci a fare in 24 anni è trasformarla e mantenerla in una stazione di benzina, di rifornimento per la benzina, una gigantesca pompa per la benzina, le cose non vanno. Poi Omega inizia a parlare di politica, sventuratamente lo fa esattamente come parla di complottismo e di UFO. Tra le altre cose dice che è l'Europa, in particolar modo la von der Leyen, che come da visione russa è un incapace, che ha voluto staccare a tutti i costi i legami dalla Russia. Sembra quasi, secondo la visione di Omega, che poi è la stessa ai filorussi, che noi europei ci divertiamo a staccare il gas e il petrolio russo. Non è così e no, non lo facciamo perché c'è un'entità tipo gli Stati Uniti o chissà quale manovratore dietro le quinte che ce lo ordina. Lo facciamo perché Zio Vlad sventuratamente ha speso buona parte del suo bilancio in armi. Ora, se c'è una cosa che la storia insegna è che quando qualcuno costruisce un grande esercito si prepara a grandi conquiste. Dato che noi un dittatore di questo tipo a due passi da casa non lo possiamo avere evitiamo di finanziarlo permettendogli di acquistare con i proventi del nostro gas e del petrolio o meglio del petrolio che acquistiamo da lui armi. Non lo acquistiamo più, chiudiamo i rubinetti. Non è esattamente una genialata da parte di Zio Vlad quella di bruciarsi tutti i clienti principali e cioè tutti i rifornimenti alle nazioni più ricche del pianeta. Poi Omega dice che sostanzialmente Zio Vlad è un genio perché si è fatto mettere sotto embargo il suo pil con la guerra cresce a dismisura mentre noi guidati dai soliti fessi corrotti al servizio dei poteri forti perdiamo colpi sotto il profilo economico. Ma tu guarda che fessi per superare ogni problema sarebbe bastato invece di creare l'Unione Europea starcene per i fatti nostri anzi chiudere direttamente le frontiere e farci guerra gli uni con gli altri. Intendo dire se la Russia ha il pil che sale del 4% noi in 80 anni di guerra a quest'ora avremmo strassuperato gli Stati Uniti d'America. Anzi se avessimo guerreggiato anche con loro ora ognuno di noi avrebbe una Lamborghini e due Ferrari nel garage solo per il fine settimana ma come si fa come si fa il punto è semplicissimo il pil sale perché produci carri armati il problema è che i carri armati i proiettili gli aeroplani se riesci a farne volare qualcuno per costare costano e quindi fanno prodotto interno lordo ma di fatto non ti servono praticamente nulla non hanno un'utilità vera e propria se tu scavassi buche nel terreno e li ricoprissi avresti lo stesso aumento del pil ma alla fine della fiera non hai un miglioramento nell'economia globale e sociale quando finisce la spinta e prima o poi dovrai smettere di produrre carri armati tutte queste spese ti raggiungeranno e ti faranno molto molto male oltretutto lo stesso governo di zio Vlad dice che le famiglie non se la passano proprio benissimo come potete notare il 70% delle famiglie con figli è in stato di povertà e all'interno di questo 70% un 20% del totale non riesce a permettersi nient'altro che il cibo il 50% di questo 70% invece ha delle difficoltà a comprare gli elettrodomestici a mantenere la casa poi secondo Omega Putin è un genio perché ha stretto rapporti economici con la Cina e con l'India ragazzi Putin rifornisce Cina e India perché il suo petrolio avanza non lo può più vendere a Occidente quindi lo svende letteralmente alla Cina e all'India quest'ultima tra l'altro paga anche in rupie quindi con le rupie non è che ci puoi acquistare moltissimo e il bilancio 2023 di Gazprom non è stato esattamente molto positivo ma Putin è un genio economico di livello mondiale nell'intero multiverso se ne trovano pochi come lui per fortuna degli infiniti mondi che lo abitano e poi ci sono le alleanze con tutto il resto del mondo perché naturalmente solo un genio poteva consegnarsi legato mani e piedi ai cinesi e soltanto un genio poteva trovare dei partner validissimi fino a quando si tratta di venderti dei proiettili d'artiglieria come il Nord Corea oppure per i droni Shahed e qualche altro missilino balistico l'Iran che tra l'altro poi naturalmente soltanto un genio poteva ricevere una delegazione di bipisti medio orientali giusto per inimicarsi l'unica democrazia del Medio Oriente e solo un genio può supportare indirettamente gli uti che poi colpiscono anche le sue petroliere è davvero geniale come strategia ovviamente nulla di tutto questo varrebbe qualcosa senza i contatti multipolari con tutte le dittature del Sud America e dell'Africa che sono quelle che fanno davvero la differenza e ti svoltano la giornata insomma prima ti trovi tutto l'Occidente e la Nato addosso che rifornisce il tuo nemico ma tu riesci a fare degli accordi con il presidente del Niger e ti porti 6 milioni di proiettili da parte del tuo amico Kim Jong-un ma è fenomenale sicuramente conquisterai il mondo insomma io e Omega Click abbiamo dei concetti di genio molto molto diversi poi è indubitabile che zio Vlad dal 99 al 2008 abbia lavorato beneno ci ha praticamente presi tutti per il Bipulo perché il suo piano è sempre stato questo qui ma dal 99 al 2008 lo rispettavamo addirittura la Russia aveva un ufficio all'interno della Nato abbiamo iniziato a capire che qualcosa non quadrava quando ha attaccato la Georgia e si è ammesso l'Obsetzia e la Bkazia solo allora abbiamo capito che qualcosa non andava poi nel 2014 gli abbiamo dato soltanto un buffetto sulla guancia quando si è annesso la Crimea e nel 22 zio Vlad ha letteralmente rotto gli argini abbiamo dovuto controllarlo ma direi che queste mosse non sono esattamente da genio economico e politico sarebbe interessante capire che cosa zio Vlad e soprattutto la Russia avrebbero guadagnato da questa operazione militare speciale di tre giorni che si protrae da oltre 900 la Russia ha guadagnato materie prime industrie la sua economia è diventata più florida grazie al Donbass non credo proprio anzi a causa di questa scelta scelerata hai mezzo milione di russi in realtà qualcosina di più che sono finiti sottoterra o sono permanentemente invalidi tra l'altro la Russia è in crisi demografica quindi non è che questi 600 mila 620 mila dicono le stime ucraine confermate dagli inglesi uomini in meno facciano proprio bene alla nazione bisogna aggiungere il milione di persone che è spatriato per non andare in guerra o per non essere perseguito dalla Russia siamo già tre in meno i problemi economici perché prima della guerra il 70% delle famiglie con figli non era in povertà adesso lo è e ti ritrovi uno zio Vlad che vuole farti fare figli a ogni costo e vuole penalizzare i single per fare in modo che tu metta al mondo dei figli ma se non puoi mantenerli come bippo fai è un controsenso e anche sull'economia lo ripeto fabbricando carri armati siamo tutti capaci di far aumentare il pil poi però le guerre devi vincerle e i carri armati in qualche modo devi usarli e non è una cosa carina se il tizio che costruisce carri armati per usarli abita di fianco a casa tua se tu sei uno dei suoi fornitori la prima cosa che fai è letteralmente dire grazie Jack lo scocciatore ma non ho più bisogno dei tuoi servizi perché in questo modo magari gli tagli i fondi e non può acquistarsi Miracle Blade per venire a massacrarti nel sonno perché questa è la strategia di zio Vlad quindi zio Vlad per certi aspetti è stato bravo ma questa bravura è un tratto caratteristico comune degli psicopatici non è un problema sottomettere terre altrui non è un problema far finire all'altro mondo qualcuno se ti imposti le cose così avere successo è decisamente più facile ma da qui a essere un genio direi che ce ne corre e voi che cosa ne pensate come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto se poi vi piacciono i miei video ricordatevi di ricompensare il canale iscrivetevi attivate la campanellina lasciate il like condividete il link al video sui social che frequentate per voi sono solo pochi click ma per il canale significano molto inoltre se vi sentite eroici e volete combattere la disinformazione ricordatevi che potete abbonarvi e o diventare un patrio nel caso in cui non farete nulla di tutto questo in un futuro alternativo remoto e decisamente improbabile la vostra casa verrà occupata dagli alieni così imparerete a non credere a Omega Click come sempre grazie di tutto per tutto e a presto grazie a tutti a presto a presto a presto